Ho sfruttato gli ultimi 20 minuti alla grande, sono contento sia perché sono entrato subito in partita ma soprattutto perché ci tenevamo a riscattare i 40 minuti fatali della partita precedente quindi avevamo tanta voglia di riscattarci e ci siamo riusciti. Poi si sa, non è facile perché comunque nell'ultimo periodo le cose anche più facili sembravano difficili quindi va bene così. Il mister ovviamente mi ha fatto entrare per dare un po' più di pressione al gubbio ci siamo messi a tre, ci siamo messi e siamo andati a giocare sulla seconda palla sulla palla lunga per cercare di recuperare la partita e così è stato perché dopo cinque secondi mi è arrivata subito la prima palla giocabile di testa e siamo riusciti a fare gol con Jefferson. Noi dopo la partita sì è vero che abbiamo festeggiato, eravamo contenti e tutto però almeno personalmente già pensavo alla partita di sabato. Croce è sempre stato un ragazzo che si è allenato bene, a meno per quanto mi riguarda sempre a disposizione della squadra, del ministero e della società. Ho avuto, diciamo, tra virgolette poche occasioni e speriamo che da adesso in poi magari ho qualche occasione in più e cercare di dimostrare quello che finora magari non sono riuscito a dimostrare come negli anni passati. Quando va via una persona, a prescindere se lo conoscevi prima o meno, comunque dispiace è andato via lui, è andato via il mister, lo staff, penso che a tutti dispiace questa cosa però il calcio come nella vita è così quindi bisogna andare avanti.